Un saluto a tutti. Avete mai notato che Dragon Ball, soprattutto di B-Super sembra procedere come un percorso iniziatico? Non voglio congetturare cose relative alla massoneria o cose simili, perché non ne ho le prove, anche perché spiegavo nel video su MR. Satana che essendo quest'ultimo un personaggio molto preso in giro, portando quel nome è difficile credere che c'entri il satanismo con questo manga, o anime. I percorsi iniziatici o misterici esistevano prima dell'esoterismo moderno e delle attuali società segrete, basti pensare ai pitagorici, all'orfismo, all'ermatismo nell'antichità. In Dragon Ball i protagonisti, soprattutto Goku, effettuano senza saperlo un percorso di rivelazione progressiva della verità sull'universo. Ad esempio prima Goku da bambino conosce Kami-sama, che in giapponese significa Dio, in italiano è stato chiamato Supremo. Kami-sama dovrebbe riferirsi al Dio del monoteismo, come se fosse l'unico Dio, al di sopra del quale non c'è nessuno. Ma dopo Kami-sama Goku conosce Rekai-yo, letteralmente re dei mondi, superiore a Kami-sama e ritenuto essere il più importante in assoluto. Quindi Kami-sama non può essere Dio, ma solo il Dio della Terra. Rekai-yo non solo ha altri tre colleghi suoi pari ma è sottoposto a un'altra divinità, cioè il gran Rekai-yo. Fino ad ora per ogni divinità conosciuta, da Karin che era solo una remita, fino al gran Rekai-yo per Goku sono corrisposti degli allenamenti particolari. Ad ogni incontro egli ha aumentato la sua forza e le sue capacità. In particolare grazie a Kami-sama Goku ha conosciuto la percezione del Ki. Facoltà fondamentale per il combattimento e la difesa è grazie a Rekai-yo egli userà il Kai-oken e la Genkidama. Invece grazie agli allenamenti dal grano Rekai-yo arriverà fino al Super Saiyan 3. L'autorità massima dell'universo è Kaioshin, o almeno il grande Kaioshin se ce n'è più di uno. Di fatto l'SS Lunga 2 è più forte di Kaioshin dell'Est, con suo stupore ammette di essere stato superato da dei mortali. In DBGT sarà Kaioshin il sommo a trovare il modo di diventare Super Saiyan 4. In DB Super, o meglio, nel film La Battaglia degli Dei, scopriamo che esistono anche gli Dei della Distruzione, contrapposti a quelli della creazione, cioè i Kaioshin. In teoria gli Akashin non sono più importanti ma le loro mansioni sono diverse ed è necessario che gli Dei della Distruzione siano scelti tra i guerrieri più forti. Di fatto Vyairus è molto molto più forte di qualunque Kaioshin. Grazie all'incontro con Bills si scopre dell'esistenza del Super Saiyan God e così Goku lo raggiunge. Gli Angeli in teoria sono i servitori degli Dei della Distruzione, ma è facile a prima vista credere che siano loro gli Dei, infatti hanno più poteri sovrannaturali degli Dei e sono anche molto più forti di loro. Grazie a Viss Goku e Vegeta superano il Super Saiyan God e raggiungono il Super Saiyan Blue. Inoltre scoprono dell'esistenza degli altri universi, di altri Dei e Angeli, e di coloro che sono a capo di tutti, fino a prova contraria, cioè Zeno-sama e il Daishinkan. In teoria questa è stata la rivelazione massima che è stata fatta a Goku e gli altri riguardo l'universo. La maggior parte delle persone non ha idea di tutto ciò, non ha idea nemmeno di chi sia Kami-sama. Ora non sappiamo come Goku abbia ottenuto il suo nuovo Power Up, forse grazie a Viss, o forse grazie all'incontro con i guerrieri di altri universi, forse ci sarà data una spiegazione. Di fatto Goku nel tempo non solo si è avvicinato progressivamente alla verità e ha fatto amicizia con gli Dei, compreso Zeno-sama, che lo considera suo personale amico, ma nel tempo si è avvicinato alla natura divina. Prima Kami-sama gli chiede di prendere il suo posto dopo averlo superato in forza, ma rifiuta, poi domina le tecniche di Rei Kaio che però nemmeno Rei Kaio è capace di dominare, superando anche lui in forza. Poi nell'aldilà il Gran Maestro Rei Kaio si rende conto che Goku Super Saiyan è più forte di lui, poi si scopre come dicevo che il Super Saiyan 2 era più forte di Kaioshin. In DB Super Goku e Vegeta padroneggiano il Ki Divino, diventando nella pratica delle divinità, almeno quando si trasformano. L'ultima trasformazione di Goku è una tecnica che nemmeno gli Dei sanno usare perfettamente, ma che Goku e sicuramente anche gli Eren sanno usare. Cioè l'autonomia di movimento, capacità che per natura gli Angeli sanno padroneggiare. Quindi per Goku lo step successivo deve essere quello di superare gli Dei dalla distruzione e arrivare al potere degli Angeli, visto che a quanto pare la trasformazione di Goku è stata momentanea, e la strada per diventare più forte del Daishinkan sembra essere lunga. Inoltre per ora ci sono molte cose che non sono state rivelate. Ad esempio chi è Zarama, chi sono i guerrieri degli universi che non partecipano al torneo del potere, come e perché è nato l'universo, i misteri relativi agli Angeli e il Daishinkan, se esiste una divinità che trascende il tempo, che esiste in ogni linea temporale, come la Kaioshin del tempo in DB Senoverse, o altre cose. Quindi Goku nel tempo oltre ad avere conosciuto sempre più cose sul mondo e sugli Dei contemporaneamente, spesso grazie al loro aiuto, ha potuto aumentare le sue capacità, pur rimanendo un deficiente. Tutto questo mentre la massa è all'oscuro di tutto, e in ciò mi ricollego un attimo al video su MRSatan, perché la gente è convinta che è lui il più forte in assoluto, ignora l'esistenza del chi e di tutto ciò che Goku e i suoi amici e i suoi nemici sanno fare. Quindi ciò che Goku e i suoi amici conoscono e sanno fare, anche se non tutti sanno fare le stesse cose, è qualcosa che conoscono davvero in pochi negli universi, come se loro fossero stati privilegiati. Questo mi ricorda i percorsi iniziatici dove una cerchia ristretta di persone accede a delle conoscenze misteriche e si procede per gradi, dove progressivamente le cose rivelate aumentano e ci si avvicina progressivamente alla verità vera e propria. In questi culti c'è l'obbligo del silenzio, e possono anche esserci punizione per chi parla. In Dragon Ball pur volendo parlare non verrò stichereduto, ma dopo aver conosciuto MRSatan, preferiscono non farlo per fargli un piacere personale in quanto amico e parente di Goku, ma anche per ringraziarlo per averli aiutati con Mayimbu, anzi, usano le sfere del drago per far dimenticare alla gente di Mayimbu, insomma, preferiscono che le persone non sappiano. Spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima!